buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 27 aprile 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi sfogliando l'almanacco del giorno e vediamo che è santa zita santa zita la santa di lucca molto venerata in questa città toscana zita in toscana significa ragazza ovvero marità non maritata una ragazza non maritata da cui viene poi in termine di zittella lavorò come domestica nella nobile famiglia dei fatinelli fu sempre lì premurosa molto molto impegnata nel suo lavoro di cui non tralasciava nulla e comunque era molto solidale anche con i poveri di cui da a cui dava molto anche delle sue misere sostanze tutto quello che aveva insomma lo dava chi aveva bisogno per questo fu molto venerata i lucchesi se ne accorsero dopo la sua morte e la elevarono appunto come oggetto di venerazione come persona di da venerare agli onori degli altari santa zita la santa di lucca le previsioni del tempo cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutta la regione per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati e proveranno da est al pomeriggio moderati da sempre dalla stessa direzione sempre da est il mare è poco mosso le temperature si aggireranno tra i 9 e i 18 gradi quindi un pochino in più rispetto alla giornata di ieri al mattino fa un po fresco ma poi durante la giornata quando il sole si alza è un tepore veramente un buon tepore primaverile queste le previsioni del tempo della giornata di oggi bene ora diamo un'occhiata ai giornali apriamo il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo una bella fotografia bella per modo di dire insomma comunque è una bella costruzione è la nuova piscina che ormai è sorta nei pressi dell'aeroporto di fano la nuova piscina sarà pronta nel mese di giugno ma il gestore arriverà a settembre perché questo perché di solito d'estate le piscine al coperto non funzionano molto la gente preferisce quelle scoperte come per esempio quella di sassonia in neviale adriatico a fano e quindi a settembre comincerà l'attività di questo nuovo grande impianto realizzato dalla fondazione carifano è un impianto moderno un impianto funzionale un impianto bello anche dal punto di vista estetico è fornito di tutti i servizi la fondazione ha portato a termine i lavori per l'impianto di via mattei costato 7 milioni di euro al comune ora aspetta la redazione del bando per la gestione l'assessore lavori pubblici brunori dichiara pubblicazione prevista per l'inizio d'estate a metà maggio dunque ci sarà la consegna definitiva del manufatto lo ha dichiarato il presidente della fondazione giorgio gragnola appena individuato il gestore l'impianto sarà consegnato al comune e poi ancora gragnola aggiunge servirà un gestore capace perché si tratta di una struttura molto impegnativa e complessa stiamo parlando di una ferrari insomma rendere bene l'idea che non può finire nelle mani di un neopatentato insomma non si può fare un'associazione improvvisata per gestire un impianto complesso così anche dal punto di vista tecnologico così come lo è la nuova piscina un impianto che fanno aspetta da tanto tempo in quanto la dini salvalai la storica dini salvalai ormai insomma è un po' desueta insomma accusa la sua anzianità ma è stata una struttura che ha servito la città ma anche il circondario per tanti tanti anni insomma è un impianto ormai storico ed ora diamo un'occhiata anche a quello che avevamo annunciato qualche giorno fa quando avevamo detto che la selva di fenile sarebbe stata messa all'asta ebbene bosco all'asta ma l'acquisto pubblico è in salita malgrado le parole di seri qui c'era stato un invito dagli ambientalisti alle istituzioni in modo particolare al comune di Fano e alla fondazione casta di risparmio di Fano perché questo questa selva che purtroppo è divisa in tanti piccoli lotti non cadesse in mani separate ma rimanesse un tutt'uno magari anche in una mano pubblica come quella del comune oppure in quella della fondazione insomma che sarebbe che sa poco la stessa cosa ma di fronte all'invito di seri che si era già dimostrato disponibile di invitare anche la fondazione a fare un concorso comune qui c'è stato qualche problema va all'asta oggi la selva severini ma la parcellizzazione dei 3,8 ettari di bosco in otto lotti ha tenuto la fondazione cassa di risparmio di Fano lontana dalla gara la fondazione però nel caso in cui l'asta vada deserta si riserva la possibilità di fare una proposta complessiva però per tutto il boschetto insomma non si vuole accostare un bosco magari tutto diviso in lotti per cui potrebbero sorgere anche i problemi se fosse ceduto in maniera tutta unitaria la fondazione sarebbe disponibile e poi il resto del Carlino affronta il problema dei bagnini di soccorso in modo particolare nelle spiagge libere un servizio fondamentale per tutti i bagnanti e questo lo dimostra quanto è accaduto negli anni scorsi per cui per troppo episodi drammatici di soccorso in mare non sono mancati spiaggia libera torrette dimezzate da 7 a 4 le torrette sono appunto le postazioni di salvataggio con cui i bagnini osservano i bagnanti che sono sulla battigia ma anche oltre in modo particolare postano attenzione a quelli che superano magari le scogliere e quindi si trovano in una situazione di pericolo il comune comunque pubblica il bando per le prossime tre stagioni quindi un bando di carattere triennale compensi più alti per reclutare il personale nelle spiagge libere per le stagioni 2023 cioè questa 2024 2025 il comune aumenta i compensi li porta a 245 mila 901 euro più iva per appunto per il triennio riduce comunque le postazioni da 7 a 4 prevedendone due in Sassonia una a Fossoseiore e una a torrette così l'amministrazione comunale tenta di invogliare più soggetti a partecipare alla gara evitando le difficoltà dello scorso anno nell'assicurare il servizio dove non ci sono concessioni balneari quindi non ci si può magari avvalere dell'appoggio del sussidio della concessione vicina comunque è importante che anche le spiagge libere abbiano un servizio di soccorso in mare perché poi anche le spiagge libere sono molto molto frequentate e purtroppo possono accadere delle disgrazie e poi vediamo alcune prese di posizioni per quanto riguarda la sanità a fondo pagina vediamo l'affondo dell'assessore mascarin rischiamo di fare la cenerentola della sanità ha dichiarato l'assessore di incomune a pesaro il nuovo ospedale da 170 milioni a fanno poco o nulla ha dichiarato appunto mascarin ma vediamo anche sul Corriere Adriatico un'altra presa di posizione di Busca di Tiziano Busca del Partito Socialista eccolo qua l'articolo i 50 posti letto appartengono a Santa Croce si parla dei 50 posti letto di ortopedia e non possono essere dispersi in altre località in modo particolare a pesaro dove c'è una situazione che potrebbe appunto prendere questa risorsa per un'iniziativa di carattere privato Busca del Partito Socialista rilancia la richiesta al sindaco per l'assegnazione all'ospedale di Fano ed ora torniamo al resto del Carlino dove per quanto riguarda la politica vediamo guardate sotto questo annuncio i rumors della politica seri in avvicinamento a calenda intanto Ser Filippi prende tempo è sintomatica la cosa che sta accadendo all'interno della Lega il segretario della Lega annuncia la candidatura di Ser Filippi Ser Filippi però nicchia insomma non sembra che sia stata una candidatura personale e non dell'intero partito forse lo è anche dell'intero partito ma ancora Ser Filippi non ha dato completamente il suo consenso comunque ci aspetteremo che questa cosa si chiarisca e poi si vedrà dato che Ser Filippi è uno dei candidati che ha più possibilità avendo conquistato anche nelle ultime elezioni un numero di preferenze veramente eccezionale giriamo la pagina e parliamo del brodetto il brodetto feste debutta a Barcellona il ministro il ministro Lollobrigida il ministro dell'agricoltura dice è il mio piatto preferito pensate Lollobrigida verrà a Fano addirittura in occasione del brodetto feste lo ha invitato l'onorevole Mirko Carloni che è uno degli ambasciatori più convinti della bontà di questo piatto tradizionale fanese che ormai sta conquistando veramente tutta Italia e a Barcellona c'è sta dove si svolge poi una delle feste più importanti a livello europeo per quanto riguarda il mondo della pesca si tratta del Seafood Expo Global di appunto di Barcellona ebbene in questa vetrina internazionale c'è stato sia Lollobrigida sia Mirko Carloni e poi anche molti molti esponenti del nostro territorio come Andrea Maria Antonini che è appunto l'assessore regionale che ha rappresentato ovviamente la giunta Acquaroli e poi ci sono stati anche i rappresentanti di categorie in modo particolare della Confesercenti che organizza appunto questa iniziativa. Vi ricordo che il brodetto feste che quest'anno non si svolgerà più a settembre ma si svolgerà all'inizio del mese di giugno dall'1 al 4 in modo che possa svolgersi non in un clima di fermo pesca ma in un clima sempre di bassa stagione quindi importante anche per le presenze turistiche ma dove il pesce dell'Adriatico è presente e in quantità nei banchi del mercato. Ed ora parliamo di un'altra azienda invece parliamo di caffè. Ultramar, re delle capsule, cede la maggioranza. Si tratta di una società fanese del caffè guidata dalla famiglia Nava Montanari e le cui azioni passano dall'85 al 40%. Il pacchetto va alla multinazionale Natura Lifestyle. Ebbene la società fanese Ultramar Caffè, nota in città anche per le sue sponsorizzazioni, ha ceduto il suo pacchetto di maggioranza a una multinazionale del settore, abbiamo detto la Natura Lifestyle. La famiglia Nava Montanari passa appunto dall'85 al 40% mentre il restante 15 è stato ceduto dal responsabile commerciale dell'azienda Mattia Tarsi. Ebbene l'operazione è stata resa nota nella giornata di ieri ma si parla di trattative che vanno avanti ormai da tempo. La società fanese che ha chiuso con un fatturato di 20 milioni di euro ha fatto segnare un più 40% rispetto al 2021 ed è la prima azienda del mondo del caffè della regione anche se il core business non è tanto la torrefazione ma la produzione di capsule. Pensate, ne produce 1.200.000 al giorno. Si tratta di capsule compatibili che vengono poi acquistate anche da note ditte come la Segafredo e la Nespresso. E' quindi una movimentazione di carattere commerciale importante per quanto riguarda questa società. E poi ieri è stato il primo giorno dello sgombero del Vittoria Colonna. Prossimo step, murare tutti gli accessi. C'è stato l'intervento delle forze dell'ordine annunciato dal prefetto. La proprietà in limite interverrà nei prossimi giorni per la sicurezza. Ebbene ora si interviene con più decisioni per salvaguardare questo grande complesso ormai in disuso da tanto tempo. Si vuole evitare che persone strane entrino e poi sbaracchino tutto come hanno già fatto tante volte. Anche ieri sono stati trovati due strani, uno che dormiva dentro, uno che dormiva nel giardino. Le temperature ora lo consentono con un po' più di sollievo. Comunque ci sono stati ancora degli strani. Ora si interviene con decisione, un'operazione che durerà diverso tempo perché sgomberare tutto, risanare in tutto, dato che dentro c'è molto del devastato, richiederà appunto parecchi giorni. E poi guardate questo articolo a fondo pagina di spalla. Alla vigilia dei 70 anni Annibale Montanari, Annibale Montanari è il deus ex machina della Colle Marathon, colui che l'ha inventata, colui che la gestisce, insomma veramente un atleta di nome e di fatto. Ebbene Annibale Montanari a 70 anni ha percorso ancora, ma lo fa tranquillamente. Una maratona veramente importante, la maratona di Vienna. Alla vigilia dei 70 anni Montanari ha corso a Vienna la maratona numero 186. Era a meno di un mese dal suo settantesimo compleanno che scade il 21 maggio e questa è la nuova performance di Annibale Montanari. Protagonista a Vienna nell'ultimo weekend dell'ennesima impresa e l'ha fatto veramente in un tempo che è invidiabile appunto per la sua età. Giriamo la pagina, vediamo ad Urbino e vediamo che l'ex assessore Guidi è diventato presidente onorario per i siti Unesco. L'associazione degli enti locali ha dato il riconoscimento all'ex amministratore urbinate negli anni attivissimo nelle politiche di tutela. Dunque Massimo Guidi è diventato presidente onorario dell'associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale in cui rientrano gli enti locali che hanno un sito Unesco sul proprio territorio. Bene, una carica importante, una carica di responsabilità che rende anche merito all'azione di questo esponente di carattere politico. E vediamo poi un piccolo incidente che si è verificato nella casa urbinate di Paolo Volponi. Sono distaccati dei materiali dai cornicioni, forse a causa dell'intenso vento. Sono caduti per strada, si sono sbriciolati, si sono divisi in diversi pezzi. Per fortuna non hanno fatto male a nessuno perché in quel momento nessuno passava nella via. A Macerata Feltria si cerca di riflettere sulla situazione della REMS, in modo particolare dopo l'omicidio della dottoressa Pisa da parte di un paziente. La REMS è l'unica casa che esista nel nostro territorio a Macerata Feltria appunto per la cura e il soggiorno dei malati di mente. Macerata Feltria con il fiato sospeso dopo la morte della dottoressa Barbara Capovani. E poi invece si avvicina il primo maggio a Piobbico dove si svolge un tradizionale concerto. Si tratta del travolgente in rock. Dopo tre anni di sospensione il festival raddoppia e sarà sabato e domenica prossima proprio nel weekend. Ebbene questa è una edizione molto molto apprezzata, molto frequentata. C'è gente che arriva anche dalle regioni limitrofe ed è una delle iniziative più importanti che si svolgono nell'entroterra. Un'iniziativa per ascoltare della buona musica ma anche per conoscere un territorio che dal punto di vista ambientale è suggestivo e pregevole. Questo per quanto riguarda le notizie di carattere provinciale. Adesso diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro dove l'attenzione è dedicata agli stipendi di Marche Multiservizi. C'è stata una decisione importante per quanto riguarda l'aumento delle indennità. Ma subito dopo c'è stata anche una marcia indietro. Bufera stipendi, intitola il giornale. Ora Pierotti, che è il presidente di Marche Multiservizi, alza il tiro. Annulliamo tutti gli aumenti e poi non se ne parli più. Aumenti che una volta approvati hanno subito scatenato una ridda di commenti assolutamente negativi e a questo punto il Consiglio sta facendo marcia indietro. E soprattutto marcia indietro la fanno anche quei sindaci che hanno votato a favore, i quali hanno detto candidamente che lì per lì non si sono resi conto della portata della loro decisione. Magari non hanno capito bene di che cosa si trattava. Sono stati tratti in inganno anche da qualche percentuale che sembrava un pochino più tollerabile, invece era maggiore. Insomma ci sono delle giustificazioni che vengono espresse oggi sul giornale. Fatto sta che la decisione verrà revocata in una prossima riunione del Consiglio. L'unico che si è astenuto, Paolini, fa il comunista ma arricchisce i manager, due lire agli operai no, lo afferma Pierluigi Ferraro che è assessore del comune di Monte Labate e che è stato appunto l'unico che si è astenuto su incarico del sindaco appunto della località dell'entroterra pesarese. Qualcuno ironizzava sul fatto che non ci accodavamo a tutti gli altri, ha detto Ferraro, che è stato l'unico che in quel momento è stato molto prudente. E ieri poi c'è stato invece un episodio molto concitato in via Montenevoso a Pesaro. È stata individuata una donna con una grossa ferita alla testa e nei pressi c'era un mattone sporco di sangue. Si pensava lì per lì che fosse stata un'aggressione, una rapina. In realtà poi si è scoperto che la donna ha fatto tutto da sola, si è colpita con il mattone la testa più volte e poi stava per cadere svenuta addirittura. Perché lo avesse fatto è materia di indagini da parte degli inquirenti, ma sembra che l'avrebbe fatto in un momento di delirio per presunti motivi di lavoro, ma senza una reale ragione. Una reazione scomposta a una nuova proposta di lavoro come donna delle pulizie. Insomma, forse è stata ricoverata comunque anche in psichiatria per quanto riguarda quanto ha fatto. E poi parliamo sempre del No Bio Lab che ormai appare quasi tutti i giorni sulle cronache dei quotidiani. Questo laboratorio che viene contestato dai residenti di Torraccia. La maximanifestazione, il raduno dei No Bio Lab, si sposta ora alla Torraccia. I partecipanti, che arriverebbero anche dall'estero, si sono dati appuntamento il primo maggio davanti alla Vitifrigo Arena. C'è una risonanza internazionale, pensate di questo caso. Un Bio Lab che fa delle sperimentazioni non molto gradite appunto ai residenti, viene contestato in maniera, nonostante le assicurazioni poi che sono state fornite appunto da coloro che realizzano l'impianto, viene contestato acerbamente appunto da coloro che abitano nei dintorni. Vediamo anche, sì, questo articolo che riguarda Fiorenzuola. C'era un bando, un bando che è andato deserto per uno stand che doveva essere così realizzato alla porta della cittadina del piccolo centro del Monte San Bartolo, ma in realtà non c'è stata nessuna offerta perché c'è troppa concorrenza nei dintorni e quindi non avrebbe avuto grandi opportunità di gestione questo impianto. Ed ora vediamo il Corriere Adriatico. L'apertura dedicata a Fano Alta, vi ricordate Fano Alta, questo grande complesso immobiliare che dovrebbe sorgere, doveva sorgere a Gimarra, che poi invece è stato lasciato incompiuto per il fallimento dell'Apolo Holding. Fano Alta parte il progetto di recupero, direi riparte il progetto di recupero. Si allestiranno 30 appartamenti di pregio. Si tratta dell'investitore Sorcinelli che illustra il completamento dei fabbricati bloccati appunto dal fallimento dell'Apolo Holding. Ebbene il fanese Fabrizio Sorcinelli, che ha una ditta che fa base in Lussemburgo, indica uno degli immobili da completare. E lo vediamo qui nella fotografia. Un investimento da 8 milioni per sanare questa vistosa ferita che ormai da tempo, da tanti anni, che imbruttisce il quartiere. L'incompiuta Fano Alta a Gimarra. è una delle imprese più importanti dopo anche il rissanamento di tutti quegli appartamenti in cui è stato realizzato il centro civico di Gimarra, acquistato dal Comune. Ora anche questo centro verrà corredato dal rissanamento e dalla ristrutturazione del secondo piano dopo che il primo, il piano terra, è stato già fatto e dato in esercizio, è stato messo in condizioni di operare nei confronti di tutto il quartiere. Ebbene dopo l'acquisizione all'asta di inizio 2022 per un paio di milioni di tutto il complesso, questa ditta di Sorcinelli, si tratta della Fabso, ha apparecchiato la tavola per il cantiere che, dieci anni dopo aver salutato l'ultimo, tornerà ad accogliere tecnici e muratori a partire dall'inizio di maggio. E quindi si parte con decisione per la realizzazione di questi nuovi appartamenti. Siamo ormai in conclusione. Voglio segnalarvi questo articolo che riguarda Feronia e gli investimenti di questa società nell'entroterra, in modo particolare a terre roveresche, Feronia rilancia il project. C'è la discarica da risanare. L'azienda del biodigestore di barchi ha scritto ai sette sindaci del complessorio. E poi voglio completare la nostra rassegna stampa per quanto riguarda Senigallia. Le aree verdi lasciate nell'incuria. Bel biglietto da visita per i turisti, lo dice Romano del Partito Democratico che attacca l'assessore Campagnolo. Abbiamo sistemato parchi e installato giochi, ma evidentemente questo per il PD non basta. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani, sempre alle sette. Intanto vi auguro buona giornata. Grazie a tutti.